Buonasera allora di nuovo insieme tra poco con un'altra edizione del telegiornale della 7 una serata in cui vi racconteremo ancora un'attesa un quadro sempre più complesso che quello che ci riporta al Medio Oriente dove tutti danno per letta per scontata la risposta dell'Iran colpita nel suo territorio con la morte del leader di Hamas e per quel che riguarda la reazione sono tanti gli sforzi per contenere l'escalation che sembra inevitabile così come molto complicato è capire in che direzione e con che modalità si muoverà l'Iran basti per tutto il tentativo di Putin che si è rivolto alla guida suprema dell'Iran Kamenei dicendo che la vostra risposta sia moderata e risparmi i civili nel frattempo sul campo le notizie arrivano la guerra continua anche all'interno della striscia di Gaza e forse il senso di questa attesa è soprattutto nelle parole le ultime arrivate in serata da parte del leader di Esbollah che ha parlato di questa attesa e ha detto questa attesa per Israele di una settimana è il senso anche della nostra battaglia ed è giusto che attendano tanto in vista di una risposta che arriverà è un'attesa che riguarda tutti riguarda naturalmente anche gli Stati Uniti da lì ripartiremo stasera non tanto e non solo per capire come sta lavorando la diplomazia americana su fronte della de-escalation del conflitto non solo per capire come sta invece l'economia americana naturalmente ci torneremo perché dopo la giornata nera di ieri capiremo in che direzione sia andata che rimbalzo c'è stato o non c'è stato e soprattutto se come si muoverà la Federal Reserve ma perché oggi è una giornata importantissima il ticket democratico è ufficiale e Kamala Harris ha scelto il suo vice che è il governatore del Minnesota oltre un uomo di 60 anni un navigato della politica tra poche ore peraltro proprio dal palco della Pennsylvania inizierà Kamala Harris il suo tour nelle città chiave lo farà con accanto un uomo che è già stato bollato da Donald Trump come radical chic per quel che riguarda la nostra politica invece abbiamo un bilancio da parte della Meloni nell'ultima settimana di attività parlamentare ricorderete un anno fa la Meloni che aveva descritto il suo ruolo da presidente del consiglio come uno stare su un ottovolante da cui ogni tanto viene voglia di scendere stavolta il bilancio è un bilancio a tutto tondo con molte rivendicazioni su quanto fatto in un momento molto teso della politica con tempi stretti sull'attività parlamentare poi c'è la cronaca e poi ci sono ancora le olimpiadi che sono di attesa in questo caso molte sulle spalle di Tamberi che domani sarà in pedana costi quel che costi per guadagnarsi un posto nella finale di salto in alto è un'Italia che oggi non ha ancora messo mani sulle medaglie però se ne è assicurata una nella vela qualcosa si può ancora muovere peraltro continuiamo a collezionare posti a ridosso del podio ma per fortuna questa olimpiade parigina ha insegnato un po tutti speriamo a trovare un equilibrio anche nel raccontare il percorso di chi una medaglia non la raggiunge eppure torna a casa magari anche con un sorriso non sorridono gli atleti che devono nuotare nella senna uno perché non ci riescono vedremo che è arrivato un altro stop il quinto agli allenamenti e due perché dovranno fare 10 chilometri giovedì le donne venerdì gli uomini con il nostro paltrinieri e questa è una polemica enorme oltre che un grave problema forse anche per la salute approfondiremo anche questo un minuto e arriviamo